dai bellotti perché che veniva dentro dalla strada qua o dalla strada del castello perché una volta è passata da d'ordoghe e diceva andare al castello entro per le eroe e veniva entro e dopo quando entro i velotti entra un fondo dove veniva il pra che veniva sulla valle e dopo l'alto passaggio è andata e entra al canale ok, per andare entro a Ivanoi questa gara si, entro per la valle di Ivanoi ok, nel 14 hai cominciato la strada della cortella ma in austriace allora? no, erano italiani che hai cominciato la strada perché? e allora hai cominciato perché sai che volevo fare la guerra e allora hai cominciato la strada che questi operai era su dei villotti e se feo da mangiare non sei onde qui era, era una baracca dicendo e dal 14 in poi io hai fatto la strada, allora hai cominciato la strada da due sul collo a dove cadesse nel Ponte di Pilotti e andare entro, vuoi dire, hai cominciato la strada del Pian delle Borche la cortella, la cortella insomma, ecco, mi mamma la dicea perché mi mamma la era che 10 anni a quel tempo l'era del 4, l'era del 14, del 15, chi è fatto questa strada entro per là a un tempo mi penso che l'era fatta per l'ora perché per la guerra allora andò là da mio nonno alla sera perché alla sera là da mio nonno lì è una cosina che l'era grande, che n'era la fornella, che n'era il caminetto e allora andò là e contava storie e contava, eh, e che n'era, mi mamma la dice sempre che che n'era uno eh, lei ha la fisica quella, perché la dice, non sai com'è che lo fea la vita, lo fea così con cortella le dicea guardè, mi magna questo cortella qua, le dice andò entro, entro fin che te lo vedi che il passei entro alla bocca e poi le dicea adesso se lo fea la cariega e lo vedi al cortella sottiantà qua e la mia mamma la dicea, noi c'era la sti bocce che, sì, a dire come farà, a fare queste robe eh, con quelle, i fea, perché la sera, io resta là e contava storie, con te, un po' che ne è male, io racconto